L'OPEC è il più potente cartello dell'energia al mondo. Ne avete già sentito parlare? Ma ci sono 5 curiosità che forse non conoscete. Andiamo a vederle insieme. L'OPEC ha sede a Vienna ma venne creato nel 1960 a Baghdad in Iraq. I membri fondatori furono Arabia Saudita, Kuwait, Iran, Iraq e Venezuela. Questi stati si unirono allo scopo di coordinare e unificare le proprie politiche petrolifere. Ad oggi il cartello conta ben 13 membri. I membri dell'OPEC producono circa il 42% del petrolio messo sul mercato. L'OPEC è in controllo di oltre il 79% delle riserve mondiali di greggio. Monitora i mercati e decide collettivamente se aumentare o tagliare la produzione. I ministri di petrolio ed energie dei Paesi membri si incontrano due volte all'anno. Quando le circostanze lo richiedono, si tengono sessioni straordinarie, come accaduto nel 2020 a causa della pandemia da coronavirus. Nel 2016 invece l'OPEC si è allargato nella formazione OPEC Plus. Quando il cartello si riunisce in versione Plus, al tavolo siedono altri 10 grandi Paesi produttori di petrolio, guidati dalla Russia. Alcuni dei Paesi sono Messico, Malesia e Kazakistan. Tutte le sessioni straordinarie dell'OPEC del 2020 sono state in formazione Plus. Tre Paesi hanno abbandonato l'organizzazione negli ultimi anni. Nel 2016 l'Indonesia, nel 2019 il Qatar e nel 2020 l'Equador. Il divorcio del Qatar è particolarmente doloroso in quanto membro storico dell'organizzazione e il più grande esportatore al mondo di gas naturale e liquido. L'OPEC ha un proprio segretario generale che viene eletto ogni tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Dal 2016 questa posizione è occupata dal politico nigeriano Mohamed Barkindo, giunto al secondo mandato. In realtà la figura più influente è il Ministro dell'Energia Saudita. L'Arabia Saudita, in quanto maggior produttore di petrolio, è di fatto l'azionista di maggioranza dell'OPEC. L'opinione del Ministro Saudita è stata la base di quasi tutte le scelte compiute dall'organizzazione nel suoi 60 anni di vita.